Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, Avellino. Pippo Bombaci Zagari, costruttore avellinese d'altri tempi, conosce il sottosuolo a menadito. È lui a guidarci nel metaforico viaggio nelle viscere di Avellino, dalla Dogana salendo fino a Piazza Libertà, dalla Torre dell'Orologio scendendo fino alla Fontana dei Tre Cannuoli, passando per il Duomo e fino al Castello. L'Avellino sotterranea è più viva che mai. I cunicoli scavati per estrarre Pozzolana e costruire così i primi insediamenti potrebbero oggi essere volano di un turismo del tutto assente nel capoluogo e di cui nessuna progettazione di fondi europei sembra occuparsi. Macchine in fila e pedoni di corsa, ai più il mondo sotterraneo del cuore di Avellino è sconosciuto. Si arriva fino a 7 metri di profondità. Il percorso è già dotato di impianto di illuminazione. Storici e cultori della storia locale se ne sono abbondantemente occupati. L'ultimo assessore ad accendere i riflettori fu Yermano nella seconda giunta a Galasso, poi da allora silenzio e oblio. Pippo Zagari, modello argonauta, prova ad esplorare per tramandare la memoria. Ci guida dinanzi alle porte che danno sui cunicoli. Alcune sono inaccessibili. Negli scantinati del liceo Colletta o nella cripta del Duomo bisognerebbe radiografare il sottosuolo. Un sistema che sfocia lungo il fenestrelle dove un tempo i mulini erano il motore dell'artigianato in quella che fu la Mesopotamia di Irpinia. Oggi desolazione e abbandono ai piedi della torre dell'orologio. Chissà, costruita anch'essa su una galleria e con quali rischi è il grande interrogativo. Andrebbe accertato anche questo. Qualcuno intanto ha creato dei barchi negli accessi ai cunicoli longobardi. Potrebbe viverci sottoterra qualcuno per trovare riparo. L'esperienza di Zagari ci guiderà nello speciale che Telenostra sta dedicando al tema e di cui vi diamo solo un'anticipazione. L'appello è naturalmente rivolto al comune di Avellino, agli assessori alla cultura, ai lavori pubblici o ai fondi europei. Quel tesoro resta nascosto e abbandonato. Si può riallacciare un discorso con la città, facendo rivivere il centro storico attraverso un'operazione di messa a punto di tutto quello che abbiamo giù, che sarà un volgare scavo per trovare quel materiale. Però si può sfruttare così come l'ha sfruttata Napoli, così come l'ha sfruttata Roma, così l'ha sfruttata tante città. Arriviamo probabilmente davanti al Duomo, attraverso queste gallerie. Non vi nascondo, lo dico qua. Sono in attesa che il Monsignor Sua Eccellenza, il Vesco, mi dia l'autorizzazione a entrare in un certo punto del Duomo. La possibilità di tornare alle radici per far rifiorire il centro storico. Chiudiamo con la Torre dell'Orologio che segna le ore 11.05 di una mattina di ottobre del 2018, sperando che non ne passino troppi di giorni e di tempo, non ne trascorra talmente tanto dal vedere, chissà, che si metta mano davvero a queste soluzioni. Ma io temo ci saranno tanti giri di lancetta. Speriamo di no.